E' scritto a parlare il senatore Malan, ne ha facoltà. Grazie Presidente. La questione della violenza sulle donne è una questione molto complessa. Giustamente è stata istituita una commissione che se ne occupa. Ringrazio la Presidente e tutti i componenti della Commissione per il lavoro che hanno svolto, per le relazioni che stanno preparando e presentando in Aula, che giustamente le deve esaminare. Mi sembrerebbe quasi superfluo, ma preferisco farlo, di dire che la violenza di un uomo su una donna è esecrabile, ripugnante e da rigettare sotto qualunque punto di vista e da qualunque versante culturale, sociale, storico la si guardi. Non è che la prerogativa della difesa della dignità della donna sia solo dell'ideologia recente, ma ogni decente cultura o società precedente l'ha fatto con evidentemente carenze, con delle eccezioni. Detto questo, io vorrei parlare di un problema molto particolare, in cui sono venuto a contatto occupandomi di altro. Io presiedo da cinque anni un'associazione che si occupa dei bambini fuori famiglia, dei bambini tolti alle famiglie, dei percorsi che devono affrontare, a volte degli abusi che vengono commessi nel togliere i bambini alle famiglie. La cosa è diventata molto d'attualità l'anno scorso, quando il caso di una nota località in provincia di Reggio Emilia è diventato di dominio nazionale. Ma il fenomeno non è certo limitato solo a quell'area e non è certo nato l'anno scorso, ma va avanti da anni. Ebbene, cosa c'entra questo con la violenza sulle donne? Alcuni casi di persone che si sono rivolte e che comunque sono finite sotto l'attenzione di questa associazione che si chiama Rete Sociale, avvenivano in questo modo. Allora, e spero di essere smentito, ma purtroppo da anni io chiedo, mi informo su questa condizione e non trovo, ahimè, smentite. E cioè, le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza, vanno nelle case rifugio, chiamiamole come vogliamo, perché hanno diverse denominazioni e ragioni sociali, vengono, per quanto ne so io tutte, ma comunque la stragrande maggioranza, vengono sottoposte alla valutazione da parte dei servizi sociali per accertare se siano in condizioni di esercitare la responsabilità genitoriale. Detto in modo chiaro, vengono immediatamente messe sotto analisi per vedere se toglierle i bambini o meno. Tutte. Questo è quanto mi risulta. Io trovo che già questo è un abuso, è una violenza. Ma come? Una donna trova il coraggio di rivolgersi a questi centri e un coraggio che non vale solo per se stessa, difesa di se stessa, ma dei suoi figli, che a volte sono vittime loro stessi, perché spesso gli uomini violenti con la loro donna lo sono anche con i bambini, a volte no, sta di fatto che è ovvio che dei bambini non faccia bene stare in un ambiente dove l'uomo picchia, maltratta, esercita violenza, a volte grave sulla sua compagna o moglie o quello che sia. Ebbene, queste donne vengono messe immediatamente sotto osservazione per vedere se sono buone madri. Un frequente provvedimento riguardante i loro figli, perché cosa succede? Che questa donna si denuncia questa mattina, oggi pomeriggio, la violenza, le viene chiesto, ma da quando suo marito ha cominciato ad avere atteggiamenti violenti? Eh, per la verità sarà due o tre anni, due o tre mesi, due o tre settimane. Ma come? Ha aspettato tutto questo tempo a venire qui da noi? E i suoi figli in pericolo? Ma veramente i figli non li ha mai toccati? Comunque sono in pericolo, per cui sei sospetta di essere una cattiva madre? E dal sospetto si passa all'azione. Ci sono molti provvedimenti di tribunali che hanno questa formula riguardante i bambini di qualunque età, ovviamente minorenni. Venga collocato il minore in uno spazio protetto con la facoltà della madre di accudirlo. Facoltà vuol dire che se vuoi e puoi, poi ci arriviamo, questa madre, se vuoi e puoi, cara madre, puoi stare con tuo figlio. Se però per qualsiasi motivo poi non vuoi o non puoi, sia chiaro che il bambino resta qua e tu vai o dove ti pare o dove lo decidiamo noi. Ci sono stati, ci sono dei casi in cui le donne che vanno con il bambino, che sarebbe il loro figlio, che è il loro figlio, e poi vengono allontanate forzosamente da queste case perché non avendo più, essendo stata loro sospesa, qualche volta anche tolta, la cosiddetta responsabilità genitoriale. Loro non hanno più alcuna possibilità, alcun diritto di stare col bambino, hanno la facoltà di stare col bambino. Se poi ha insindacabile, di fatto, giudizio, dita l'uni operatori, questa donna viene considerata non sufficientemente collaborativa con la casa dove si trova, e per essere collaborativa vuol dire naturalmente tenere in ordine la stanza che condivide o gli spazi che condivide con il figlio e i figli, ma a volte vuol dire fare le pulizie nelle zone comuni, per le scale, non certo perché la casa famiglia abbia bisogno di questo, perché le case famiglia non badano a spese, a volte, ma per dimostrare la sua collaboratività. Dimostrando la sua collaboratività risparmia anche qualche spesa la casa famiglia. Se non dimostra sufficientemente, sufficiente collaboratività, viene considerata non conciliante, non collaborativa, incompatibile con l'ambiente in cui si trova e dunque viene allontanata e privata dei suoi figli. Io trovo questa una cosa mostruosa, una cosa mostruosa perché una donna già vittima di violenza, poi le viene anche, vengono anche tolti i bambini, tra parentesi, non perché sia un incidente, ma con l'infamia, cioè tu non sei degna di essere madre dei tuoi figli. E perché? A volte per buoni motivi, ci sono anche dei casi giustificati, ma a volte no. Ed è chiaro che è un po' come l'analisi sui tamponi, più ne fai è più facile che ci siano dei casi positivi, più queste donne vengono valutate nella loro capacità genitoriale e più è facile che ci sia qualcuna che, a giudizio, non sempre è equilibrato, come abbiamo letto nelle cronache, e io ho tante, tante volte incontrato parlando direttamente con le persone o con i legali che se ne occupano, anche persone che, privi di titoli, aiutano persone in questa situazione. Un altro effetto collaterale che si determina è che queste donne, spesso, dovendo abbandonare la casa, perché è stato detto, purtroppo, troppo spesso, anzi, non dovrebbe succedere proprio mai, la legge dice che nel caso di violenza fra i coniugi deve essere allontanato il coniuge violento, elementare norma di giustizia, ma spesso si dice poi però non si ha, sì, noi possiamo allontanare il marito o compagno violento, però non siamo in grado di tenere i carabinieri o quelli che è davanti a casa, questo potrebbe sempre tornare, per cui è meglio allontanare il coniuge che subisce, che nella grande maggioranza dei casi è la donna, è meglio allontanare il coniuge che subisce, di conseguenza questo coniuge si trova sradicato, spesso non può più riprendere, perde il lavoro che aveva, oppure trovandosi da sola vorrebbe avercelo. Non sono casi isolati, ma anche lì ho avuto testimonianze di diversi casi in cui la donna trova un lavoro e il lavoro, come sappiamo, non vuol dire lavori quando vuoi, non è il lavoro che piace raffigurare nei film, lo scrittore che quando vuole scrive quattro versi che poi vengono venduti a milioni di coppie, ma il lavoro tante volte vuol dire quattro, sei, otto ore, questo è il lavoro normale, quello che fa le persone normali. Ebbene, donne allontanate dal centro, da queste case e dai loro figli, perché non ha un lavoro, lei deve trovare, signora o signorina, lei deve trovare un lavoro che si concili col suo ruolo di madre. Ma come? Noi giustamente siamo per la piena occupazione anche delle donne quando sono in casa loro, quando vengono sotto la tutela diretta delle strutture pubbliche e diciamo no, tu donna devi trovare un lavoro da due o tre ore perché potrai mica pensare di fare un lavoro normale come se tu fossi un uomo. Allora, di queste cose credo che bisognerebbe occuparsi anche perché c'è un piccolo problema. Sempre testimonianze ricevute, è difficilissimo sempre capire quanto gli enti danno a questi centri che si occupano dei bambini, delle donne. Quando lo si viene a sapere sono somme alte, assai più alte di un buon reddito. Parliamo facendo i nomi di 100 euro al giorno per cui madre e figlio, madre e figlia, un mese 6.000 euro alla struttura che li ospita. difficilmente le spese sono superiori. Allora, quando c'è un eccesso di compenso per un'attività c'è il rischio che questa attività si gonfi e travalichi vada al di là di quello che dovrebbe fare. Siccome c'è bisogno di tutelare le persone che si trovano in queste difficoltà, di tutelare le donne, di tutelare i loro figli quando ce ne sono, non si può fare uso sbagliato di questi soldi perché vuol dire incentivare le cattive pratiche e magari lasciare chi davvero ha bisogno senza le risorse di cui avrebbe davvero necessità.